Caduti. Prima quei saccheggiatori lordavano le mie strutture su Europa. Adesso scorrazzano sulla stazione del Serafino. Inaccettabile. Quanto caos porterebbero? E la tecnologia che i loro tecno-simbionti potrebbero danneggiare? Voglio quei parassiti sterminati e i Warsat di nuovo sotto il nostro controllo. Ma prima dobbiamo finire di ricostruire Rasputin. Siccome non può essere caricato sulla rete di Warsat, continuo a recuperare i dati di sottomente per la reintegrazione. Nel mentre cercherò un modo più pratico per ripristinare Rasputin. Ancora una volta, tocca a me fungere da salvatore dell'umanità. Ancora una volta, a me fungere da salvatore dell'umanità. Ancora una volta, a me fungere da salvatore dell'umanità.